Salve a tutti ragazzi e benvenuti in assieme in questo nuovo video di Nier Replicant Bene, vedo che c'è un segnalino nella mappa Volevo vedere che cazzo fosse Qua Si può entrare? No Quindi questo edificio nasconde qualcosa Si può entrare anche qua? No Qua Questa è la posta Dunque, io sto cercando Oh, c'è qualcosa Lo faccio postalo Postman's oath Neither wind nor sleet nor terrible monsters of the night shall keep there from Hey, if your leg hurts, we'll just deliver it for you Oh, that would be a huge help Just be careful, all right? Eh, non lo so Eh, non lo so Eh, non lo so Eh, Dio Santo Ok, ho preso la lettera Premi Start per aprire il menu Poi seleziono i documenti della scheda Appunti di Grimoire Per visualizzare la lettera dei messaggi Non ho capito un cazzo Premi Start per aprire il menu Poi seleziono i documenti della scheda Appunti di Grimoire Oh, you know, since you're here Oh, what is it now? You're from Popola's village, right? Yeah, how do you know Huh? Well, you're dressed differently And you just have a certain air about anyway Would you mind taking this letter to Popola when you go back? Sure Ok We might as well take the postman's Allora Poi, appunti Documenti Lettera di Popola Ok Perdone, evitare di questa lettera Recentemente mi sono ammalato E ho fatto fatica a trovare un dottore In terra straniera Tuttavia la gente qui è gentilissima E giorno dopo giorno Sto recuperando le forze Se continua così Presto potrò tornare a casa Penso a te ogni momento E attendo il ritorno In cui potremo essere di nuovo insieme Guardati Io sto facendo di tutto per tornare da te Ma perché dovevo Mi amata? Perché dovevo leggere questa lettera? Beh, comunque devo andare a consegnare Devo andare a consegnare Stavo pensando, scusate perché non è chiaro la cosa Però Penso di dover andare qua Ok Ho sbagliato tutto Come al solito Poi di qua Ok Di qua Di qua E di qua Esatto E sono un po' Io non c'è più però Insomma Dove cazzo è andata? Fantastico Dove cazzo è il faro adesso? È dritto per dritto E vabbè dai Facciamo una scappinata Cosimo che sia Te che sei giovine E corri così tanto Lo salve Lei è? Nessuna questione Adesso non voglio parlare con lei Più si sa Ho di fretta Ok E la peppa E vai Ah ecco dicevo Si vede un cazzo Adesso saliamo Sto salendo Signora Sta arrivando Vabbè Ecco la signora Ehm Oh You What do you want? We have retrieved your letter The postman heard his leg That's why That's no excuse It's his job To deliver the mail No matter what Didn't he take the postman's oath? Eh Oh dear Eh I would actually bother to write you a letter Staggers the imagination Eh Such a rude book I'll have you know This is from someone very dear to me Well I suppose I should give you something For your trouble Cazzo Mi hai dato mille pezzi Mi hai dato parecchio Eh Cioè Signora vuole qualcos'altro Non so Le devo grattare la schiena Pozione di guarigione Beh La pozione di guarigione Può essere una cosa Credevole Ok Andiamo pure Facciamo un po' Allora Abbiamo preso il pesce Corto Abbiamo preso Abbiamo fatto Questo di qua Dai Possiamo anche andare via Ed ecco qua Ce la facciamo Si Ok Adesso lo so Fammi Dammi un secondo Per riprendermi un attico Va Allora Andiamo Ci vede un cazzo Andiamo di qua Oddio Praticamente Non mi ricordo Il cazzo Questa la Spiva Spiaggia Che mi hanno trovato Era di qua Che si doveva andare Mi ricordo Andiamo un po' Ovviamente io riesco A perdermi anche a casa mia È ovvio Che sia così Però Forse Ecco Ce l'ho fatta Non ci credo Allè Perfetto Ci potete andare anche a cavallo Ma si Andiamo a cavallo Cavaldomato Eccolo qui Vai Oh aspetta un attico Va che Vi raccogliamo un sacco di roba Noi qua Io non so effettivamente Quale Qui si va Alla casa Scusate Le hanno fatte apposta Salve Lei è molto astruso Sa Questa era quello Quello maledetto Vediamo se ce la facciamo ammazzare adesso Mi sa Potete di no Poi magari da lontano Vedete Cazzo Non gli facciamo niente No Ci mettiamo Ah no Quella cosa li facciamo Ma lì non ti metti in mezzo Con un educato Da visuale Può darsi che così Facciamo qualcosa È giusto per vedere La parte che Abbiamo tanta esperienza E la cosa che mi interessa Alquanto In più A meno Lo uccidiamo Se si dà qualcosa di buono Vedo cazzo Ok La idea che ce l'abbiamo fatta È andata Oh Besi Usa con tutte le categorie Arte e materiali Forza fisica Più 6 Armi e magia Livello 2 Oh Vedete che ci ha dato qualcosa di buono Lo sapevo Mi hai fatto male Poverino Oddio Armi Besi Con tutte le armi Non ne ho La minima idea Con atti marziali Besi Forza fisica 6% Ok Adesso ci Ci Siamo È schivata Besi Ok Questo cosa facciamo Difesa fisica 2% Ah Almeno così Siamo messi Scusate A un certo punto C'è che sono una palla Però almeno Ho messo a posto Ci ho fatto una fatica A matarlo Adesso ancora l'ha matato Volevo Assolutamente farlo Allora Dove ci dobbiamo andare Di qua Guardate che se c'è qualcosa di buono Lo vuole prendere Argilla È proprio buonissimo Allora dove Eh come non c'è la mappa Scusate C'è una palla Lo so Però devo trovare ancora quella roba Non so dove cercarla Ok Di qua Era il tipo Che ci ha dato La cosa Di qua Dobbiamo andare Di qua Ok Perfetto Siamo arrivati Bene Sico Oh Sono contento Dai Mi decina Avevamo sotto un sacco Dove devo andare Eh adesso non di là Perché non mi ricordo già più Ok No di qua Vediamo così Devo andare Alla Biblioteca Biblioteca Sto di bandico Biblioteca È di qua Biblioteca Ah devo andare Dalla mia Sorellina Infatti Immaginavo Che facessi una gaffa Eccoti qua Ah Meno mai Dai Mi ero preoccupato Il mattino seguente amore di I Meno eheheh eheheh vise ha stato preoccupato anche te eeeh eeeh sembra che impurezza è la frutta di questa famiglia tru... eeeh ok mi ha... eeeh eeeh stavo pensando per provare stu ma abbiamo un'escazione o noc? stu? um... io non voglio che la senti male ma la cucina è... eeeh ok Yonah vediamo se posso controllare i tuoi ingredienti vero? grazie allora caldi ciappa ce l'ho mi manca solo il grano mi manca solo il grano presumo eheheh scidenti a trovarla adesso eeeh vabbè poverino mi dispiace allora capiamoci vogliamo andare un attimo uovo per vedere qui uovo gigante spero serva qualcosa per vedere se la taverna se quel messaggio che mi ha dato era giusto per dire o effettivamente c'è un'altra missione quindi voglio andare un attimo vedere abbiate pazienza eccola qua tanta gente che ha tanto da parlare ok ok interessante semplicemente si chiami siamo le 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 Ok Oh, cazzo Toppi di biblioteca Un oggetto dedicato Cioè, quante posso prendere tutte? Sì Va benissimo E' la biblioteca? E' sempre la biblioteca? Ok, perché devo capirla Cioè, avete pazienza insomma Devo andare alla biblioteca Ne facciamo una volta La sua è una parabola avanti e indietro Ma cosa c'è qui? Excuse me But can you help me Deliver a large serving tray To the town of Seafront? No, adesso Dopo, dopo Non ti preoccupare In pratica la taverna C'è lo scorciatoio per le quest Perché se no le possiamo prendere anche manualmente A quanto pare ho visto Sembrerebbe così Fatemi vedere cosa c'è qua Un attimo Bacche Ce l'ho sperato Devo trovare assolutamente il grano E' un'altra cosa Ok Rotolo perché faccio prima E se no è una palla Allora, vediamo un po' dove mi hai segnato Il tutto Tu me l'avrei anche segnato Però Ok Quindi è il piano proprio di sopra sopra Deve essere lei Certo Ma Sure What's up? Hopola asked me to organize her bookshelves But it's kind of a big job I'm hoping you can take care of a few of them Here This book goes in the second shelf from the left On the east side of the second floor Questo libro va sul secondo scaffale Da sinistra All'ala est Del primo piano Secondo scaffale Da sinistra All'ala est Non c'ho già capito un cazzo Hai tenuto un libro in rosso Secondo scaffale Va nel secondo scaffale All'ala est Qua Ok E adesso Nel terzo scaffale è a destra E l'ala a sud Ok Sì 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 Non siete tutti potenti? Non puoi non solo Sarebbe Usare la magia per zappare questo posto in forma? The infinite power of Grimoire Weiss Is not to be used for such trivial tasks This isn't trivial Temo di essere in tesso Al tetto scaffale è dalla sud Allora Est era questa Est Ovest Nord e Sud Di qua In teoria What is the purpose of this place? Ah Saperlo Beats me Maybe it's Popola's hobby corner Ehm Il c'è Al terzo scaffale Però Al terzo scaffale Una superiore E non ho capito un cazzo però Di che cazzo devo fare qua Eh vabbè Comunque devo andare all'ala a sud Prima all'ala a sud E a sud E giù L'unico posto che mi viene in mente Qua Ok Andiamo di sopra E ci salutiamo Oh wow That's a huge load off my mind It's always nice to meet Anyway Però Non abbiamo fatto un cazzo Ci sono dato dei soldi Sono sempre contento io Bene ragazzi Direi che ci possiamo Anche salutare qui Questo video è tutto Invece come al solito Lascia un like e un commento Se ci piace Se le senti fammi Sapete cosa ne pensate Per la seconda Salute la sciva Ciao ciao